Salve a tutti Youtubers! Come avrete potuto vedere dal titolo di questo video oggi vi parlerò di una notizia astronomica veramente molto interessante perché l'articolo si intitola Parte la caccia alle meduse cosmiche per capire come le galassie perdono gas invecchiando quindi come al solito andiamo ad analizzare meglio di cosa si tratta E caccia aperta alle meduse cosmiche, galassie dalle quali partono lunghissimi tentacoli fatti di stelle e gas Studiarle aiuterà a capire meglio come le galassie si evolvono e finiscono per invecchiare La spia di questo processo, ancora misterioso, è il modo in cui le galassie perdono i loro gas e ad osservarne i dettagli per la prima volta è uno dei telescopi più grandi e potenti del mondo il Very Large Telescope abbreviato VLT che si trova sulle Ande Cilene Capire come le galassie perdono gas e invecchiano è l'obiettivo della campagna osservativa GASP approvata dall'Osservatorio Meridionale Europeo ESO e guidata dall'italiana Bianca Maria Poggianti astronoma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF presso l'Osservatorio di Padova Del gruppo di ricerca fanno parte altri ricercatori dell'INAF insieme a quelli dell'Università di Padova e ad un gruppo internazionale di esperti da Giappone, Australia, Messico, Svizzera e Cile Il progetto vedrà impegnato il telescopio VLT e il suo avanzatissimo spettografo Muse per 120 ore complessive di osservazioni distribuite nell'arco di due anni Lo scopo è raccogliere dati straordinariamente dettagliati su 100 galassie Medusa Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante Oggi abbiamo parlato delle galassie Medusa e del telescopio Very Large Telescope il quale è il più grande e il più potente al mondo il quale sarà impegnato per 120 ore complessive distribuito nell'arco di due anni e il quale avrà lo scopo di studiare e di darci dettagli veramente dettagliati su 100 galassie Medusa Questo almeno è l'obiettivo della campagna osservativa GASP come detto prima Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro Mettete mi piace al video se volete, ciao a tutti Grazie 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 Grazie